I lavori per il fatidico prolungamento della pista entro la fine dell'anno. L'utilizzo dei fondi dello Sblocca Italia. Da ottobre intanto decolleranno da Salerno 4.500 nuovi voli di aviazione generale privata provenienti dal sempre più congestionato Capodichino di Napoli. L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi comincia a far rullare finalmente i motori. Entro il 2023 si potrebbe finalmente spiccare il volo anche per le compagnie di linea. Stamane l'onorevole Piero De Luca ha fatto un blitz allo scalo salernitano accompagnato tra gli altri dal presidente della provincia di Salerno Michele Strianese. La situazione mi pare assolutamente positiva. È notizia di qualche ora fa che da ottobre di quest'anno avremo 4.500 nuovi voli di aviazione generale, quindi voli privati che saranno spostati dall'aeroporto di Capodichino qui al Costa d'Amalfi. È un risultato importante che continua a dare seguito al lavoro che si sta svolgendo in modo serio a tutti i livelli istituzionali, soprattutto da parte degli organismi della società di gestione dell'aeroporto di Salerno, per la quale ringrazio il dottor Antonio Ferraro, che consentirà di avere nei prossimi anni fino al 2023, quindi fino al completamento dell'allungamento della pista, circa 10.000 passeggeri che transieranno qui all'aeroporto di Salerno. Abbiamo attualmente 20 voli, mi rappresentavano le istituzioni dell'aeroporto, che arrivano già oggi qui in questa infrastruttura, arriveremo a più di 30 al giorno, quindi un risultato davvero importante. Ma guardi, l'ultima firma attende soltanto di vedere il decreto di approvazione dei due interministeriali da parte della Corte dei Conti. Dopo la bollinatura, l'ok della Corte dei Conti che dovrebbe arrivare a giorni, Toninelli ha sulla propria scrivania il progetto definitivo di allungamento della pista, basta una firma, non ci sono altre ragioni per le quali varrebbe la pena bloccare questa infrastruttura, già hanno fatto perdere troppo tempo a Salerno, a questa provincia, alla Costiera Amalfitana, al Cilento e all'intera regione Campania, perché ricordiamo che se questo aeroporto partirà è perché si sta portando avanti il progetto di fusione con la GESAC, quindi si creerà un'unica rete aeroportuale campana e il trasferimento dei 4.500 voli rientra in questa logica, cioè di decongestionare Capodichino e di poter valorizzare Costa da Amalfi. Sì, mancano ancora firme questo decreto della Corte dei Conti, però mi pare che ormai siamo davvero al punto giusto per proclamare il rilancio definitivo di questo aeroporto e soprattutto nei prossimi anni ci potrebbero essere, ci saranno sicuramente milioni e milioni di passeggeri che partiranno dal Costa, arriveranno e partiranno da questo aeroporto. Grazie.